C'è successo qualcosa? Parla, ma che è successo? È successo, è successo, oi mamma. È successo che sono illuso, non fallito, non strunzo, non meludo, puva faccia mia! Che è successo, oi mamma? Che non hai già capito niente della realtà della vita? Calma te. Sono un fallito, un fallito. Ho fatto fiasco, mi hanno fischiato, mi hanno pigliato la scarpa e un faccio. Va bene, che è successo, oi mamma? Che stai dicendo, Nando? Che stai dicendo? Innanzitutto, ricordate che sono malato di cuore. E tu, tu a me. Non mi puoi uccidere! Allora, allora tu mi fai venire l'infarto, ma poverello, sì! L'infarto mi fai venire. Ma no, fammi venire l'infarto. Zitta! Un colpo apoplectico, una concessione cerebrale. Madonna mia! Madonna mia, fammi un favore, fammi a me a facciandese. Sì, c'è santo andò! Ma allora tu puoi svegliare tutto l'albergo, puoi svegliare tua moglie. E che questo vuoi sentire, questo! Avrà ragione, Carmè. Sì, c'è la vera!